Tanti auguri a me, tanti auguri a me. Oggi sono sette anni che sono proprietario della libreria Aretusa. Sono sette anni che ho coronato il mio sogno facendo il lavoro che avevo voglia di fare, che mi piace di più nella vita, nel mondo, nell'assoluto. Avrei voluto festeggiare, visto che già l'anno scorso mi sono scordato, l'anno scorso in questo periodo uscivo da un covid devastante e non capivo veramente un cazzo di niente. Volevo recuperare, anche festeggiare recuperando, presentando qui in libreria il progetto editoriale più interessante degli ultimi mesi, il nuovo progetto editoriale più interessante degli ultimi mesi, cioè la casa editrice Casa 418, che è la casa editrice di fatto dell'OTO Italia, il cui traduttore è il nostro amico Alex Canepa, che è quello che ha tradotto, che ha ritradotto il Magic con si fatta precisione e maestria, che si è messo a tradurre la grafica. Sapete che, cos'era, a fine novembre scorso è uscito Brevi saggi verso la verità, libro di Crowley, pubblicato da Casa 418, tradotto da Alex Canepa, e ne stanno per uscire altri due, che in realtà dovevano uscire già qualche giorno fa, già qualche settimana fa, ma per intoppi tecnici alla fine ci hanno messo un pochettino di più. Quindi abbiamo deciso di comune accordo con Alex e con Claudio Marucchi, che interverrà anche lui in questa festa, in questa celebrazione, in cui appunto presentiamo il libro pubblicato da loro, di aspettare che arrivino anche gli altri due che stanno uscendo proprio in queste settimane. Mi hanno chiesto di aspettare un tre settimane più o meno, e poi faremo finalmente questa festa. Appena ho la data ve la comunico sarà una conferenza in presenza qui in Liberia con Alex Canepa e Claudio Marucchi. E faremo grande feste, grande yeee! Tutti quanti, tutti quanti insieme. Ciao! E festeggiate con me, eh? Venite a festeggiare anche voi perché è la festa vostra, perché non ci foste voi. Io che cazzo sto a fare qua dentro tutto il giorno? È bello quando venite, è bello quando ci sentiamo, è bello quando facciamo qualche cosa tutti quanti insieme, e questo è quello che mi piace. Dai, sentiamoci a presto, ciao!